www.astrazeneca.it Il capogruppo della svolta Attico presenta un'interrogazione al sindaco tedesco e agli assessori competenti sulla situazione CSP. Sono fortemente preoccupata, afferma la consigliera. Presentato questa mattina il progetto da 11 milioni per la riqualificazione a stazione ferroviaria di Santa Marinella RFI studia novità anche su Civitavecchia. Anche il prefetto di Roma interviene sull'indizione che l'università agraria ha fissato per ottobre 2022. Secondo il prefetto bisogna accelerare i tempi. Superato il tuscolano sabato scorso e raggiunto il penultimo posto, l'ENEL NC studia l'ultima gara e pianifiche play-out. Serve chiudere in bellezza per evitare il game over stagionale. Buonasera, iniziamo subito con il report sul Covid. Naturalmente come ogni giorno a partire dal lunedì prossimo, gli over 40 potranno prenotare il vaccino presso il proprio medico di famiglia. Ai dottori di medicina generale saranno consegnati due flaconi a settimana di Pfizer da utilizzare solamente per i soggetti fragili. Sempre dal 17 maggio verrà aperta la possibilità per i soggetti ultra quarantenni di vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson. I particolari nel nostro servizio. Vediamolo. Dal 17 maggio anche gli over 40 potranno prenotarsi il vaccino presso il proprio medico di medicina generale. Lo hanno concordato ieri in un incontro le delegazioni della Federazione dei medici di famiglia del Lazio e la Regione Lazio, nel corso del quale sono stati affrontati maggiori punti di criticità nello svolgimento della campagna vaccinale presso gli studi dei medici di famiglia, già segnalati nei giorni scorsi contestualmente allo stato di agitazione che era stato indetto per sabato e che è stato momentanamente sospeso ma non revocato. La prima importante novità è relativa all'imminente inserimento dei rottori di medicina generale nel sistema di prenotazione regionale. Oltre alla prenotazione negli hub, i cittadini avranno anche la possibilità di prenotare il siero presso il medico di medicina generale, anche se resta comunque contestualmente attivo, il sistema di chiamata per fasce come è avvenuto da marzo da parte degli stessi rottori. Chi potrà richiedere il vaccino? Anche gli over 40, ma solo per AstraZeneca e Johnson & Johnson e non per Pfizer. In questo senso la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia proseguirà per step. Dal 17 maggio al 1 giugno ad ogni dottore saranno consegnate due fiale di Pfizer a settimana, da spendere però solamente per i soggetti fragili. Sempre a partire dal 17 maggio verrà aperta la possibilità per i soggetti ultra quarantenni di vaccinarsi presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca e Johnson & Johnson. Dal 20 verranno consegnati ai medici di famiglia 20.000 dosi settimanali di Johnson & Johnson per le fasce consentite. Dal 1 giugno verranno ampliate le consegne di Pfizer e verranno consegnati i quantitativi crescenti del nuovo vaccino a mRNA di produzione tedesca CureVac. Buone notizie dunque per una campagna vaccinale che nel Lazio prosegue spedita e che può trovare la forza propulsiva proprio dalla collaborazione efficace nei numeri dei medici di famiglia e delle farmacie per le quali si parla di apertura per il prossimo 20 maggio. Rimaniamo sullo stesso tema. Sono quasi 2 milioni e 400 mila le vaccinazioni somministrate finora nella regione Lazio. Dai dati forniti dall'unità di crisi della Pisana emerge che per quel che riguarda gli over 80 il 93% ha ricevuto la prima dose e l'82% anche la seconda. Per gli over 70 il 92% dei prenotati per la prima dose è stato vaccinato così come il 39% di chi ha prenotato la seconda. Per quel che riguarda gli over 60 è stato vaccinato l'84% dei prenotati alla prima dose e il 20% di quelli che avevano già l'appuntamento per la seconda. Per gli over 50 invece hanno ricevuto il vaccino il 73% dei prenotati alla prima dose e il 25% dei prenotati alla seconda. Passando alla fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, l'obiettivo dell'ASL è quello di somministrare a tutti i prenotati entro fine maggio almeno la prima dose. A livello generale è stato vaccinato il 33% della popolazione target, ovvero gli over 16 con prima dose e il 16% con la seconda dose. Nel mese di maggio sono prenotate altre 200.000 dosi di AstraZeneca per prime e seconde somministrazioni. A giugno sono già prenotate 157.000 dosi. Intanto sabato e domenica si svolgerà un open day per l'inoculazione del vaccino AstraZeneca con ticket virtuali per gli over 40, inati cioè dal 1981. Gli hub di somministrazione dedicati, i relativi orari e la piattaforma per i ticket virtuali verranno comunicati nei prossimi giorni. Cambiamo argomento. Un'interrogazione in merito alla situazione di Civitavecchia Servizi Pubblici è quanto ha presentato il capogruppo della svolta Fabiana Attig che chiede spiegazioni e risposte al sindaco Ernesto Tedesco socio unico della società partecipata. Per i dettagli sentiamo il nostro servizio. Vediamo. Il capogruppo della svolta Fabiana Attig interviene ancora una volta sulla situazione di CSP e spiega di aver presentato un'interrogazione a risposta scritta al sindaco e agli assessori competenti. A distanza di sette mesi, afferma Attig, l'imbarazzante silenzio da parte del socio unico che ha volutamente disatteso la delibera 78 del 2020 del Consiglio Comunale che tracciava passo dopo passo il percorso di risanamento della società non è più tollerabile. Sono fortemente preoccupata per il destino che si sta prefigurando per la società partecipata ma soprattutto per gli effetti che questo comporterebbe di conseguenza per tutti i cittadini già fortemente penalizzati da una tassazione sproporzionata rispetto ai servizi erogati. Attig spiega di aver quindi presentato un'interrogazione in modo da comprendere il nuovo piano strategico che la maggioranza ha in serbo per la società partecipata e continua parlando della recente ingiunzione di pagamento di circa un milione e mezzo del fallimento della Civitavecchia Infrastrutture che secondo lei avvicina sempre di più la malaugurata ipotesi di default di CSP. Per questo il capogruppo della svolta ha posto diverse domande e chiesto risposte al sindaco Ernesto Tedesco. In particolare Attig parla della mancata attuazione di una delibera del Consiglio Comunale contenente indirizzi al sindaco nella sua qualità di rappresentante del socio unico nella società municipalizzata e spiega che quanto sopravvenuto appare come un atto illegittimo per difetto di competenza della Giunta a deliberare su una materia riservata dalla legge al Consiglio Comunale e sulla quale lo stesso Consiglio Comunale aveva deliberato il proprio puntuale indirizzo. Risposte a cui per legge, conclude Attig, il sindaco all'obbligo di dare assumendosi la responsabilità di ciò che verrà dichiarato e soprattutto degli effetti che queste produrranno sia alla CSP che all'ente di cui lui ne è il legale rappresentante unitamente a tutti i consiglieri che hanno avallato la mancata attuazione di un indirizzo dato dal Consiglio Comunale. I gruisti del GTC tornano al lavoro. È stato infatti sospeso lo sciopero originariamente in programma da oggi a sabato. Lo spiegano in una nota Filt CGL, Fit CISL e Will Trasporti che dichiarano di aver comunicato la revoca alla società GTC e all'autorità di sistema portuale. Si è deciso, affermano i gruisti, di intraprendere una tale azione nonostante l'impresa continue ad avere comportamenti, a nostro avviso, di contrapposizione immotivata nei confronti dei propri dipendenti. Non ultimo il mancato pagamento dello stipendio di aprile che ammonta poche giornate di lavoro. Questo crea un ulteriore aggrave alle famiglie non avendo l'impresa accordato l'anticipazione della cassa integrazione, lasciando quindi i lavoratori in attesa dei tempi dell'Inps. I lavoratori della GTC affermano che continueranno la protesta, ma lavorando perché è quello che sanno fare meglio. Cambiamo ancora una volta argomento. La riduzione della Tari dell'85% rappresenta un'impronta netta e riconoscibile dell'intera coalizione a sostegno del sindaco tedesco e in particolare della Lega e dell'assessore Norberta Pietroni. Parola della sezione locale della Lega di Civitavecchia che annuncia un importante sostegno per ristoratori e gestori di impianti sportivi. Come gruppo consigliare avevamo preannunciato e riprendono i salvignani che le attività produttive di Civitavecchia non sarebbero rimaste sole e che il Comune avrebbe fatto la sua parte, alleggerendo per quanto possibile la pressione fiscale su chi aveva visto quasi azzerate le entrate a causa delle drastiche misure governative per il Covid-19. Ci piace anche sottolineare che l'alleggerimento della Tari sarà esteso comunque a tutti e sensibile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Presentazione ufficiale questa mattina per la nuova stazione ferroviaria a Santa Marinella. Il sindaco Pietro Tedes insieme ai dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana ha parlato di un investimento da parte di RFI di 11 milioni di euro nell'ambito della riqualificazione totale della stazione che diventa un'eccellenza della linea entro marzo 2023. Per quanto riguarda la linea ferroviaria, Antonello Martino della direzione stazioni di RFI ha parlato anche di imminenti novità anche per Civitavecchia. Le nostre interviste sentiamo. Pietro Didei, oggi la presentazione di questo progetto che riguarda la riqualificazione della stazione di Santa Marinella. La stazione si rifà il look come si dice e strizza all'occhio poi alla fine al turismo? Sì, la stazione si rifà tutta diciamo, quindi una nuova moderna stazione che grazie alle ferrovie dello Stato con un investimento di 11 milioni di euro trasformeranno sicuramente la città di Santa Marinella. Privilegieremo il trasporto ferroviario, creeremo attorno alla stazione parcheggi una viabilità moderna e quindi credo che oggi Santa Marinella, per la quale stiamo lavorando su tutto il settore delle opere pubbliche e della riqualificazione complessiva, con questo intervento effettivamente noi potremmo dire che Santa Marinella si lancia verso il futuro. Ci sono altri progetti che riguardano ad esempio la nostra linea? Sì, diciamo le riqualificazioni e il potenziamento della stazione di Santa Marinella nella logica di creare un hub intermodale, diciamo che coniughe sia la mobilità su ferro ma anche quella del trasporto pubblico e il trasporto privato e soprattutto la mobilità dolce, quindi il ciclo pedonale si inserisce in un quadro di interventi che prevedono interventi su 620 stazioni, tra queste c'è anche la stazione di Citevecchia su cui stiamo facendo dei progetti che a breve presenteremo pure al Comune e che anche per Citevecchia riguardano sia l'ambito della stazione ma il collegamento con la città. È fondamentale fare i lavori e potenziare le stazioni ma è ancora più importante poi gestirle bene perché non devono essere dei lavori che poi dopo un po' devono essere abbandonati. Le stazioni stanno al centro delle città quindi devono essere vissuti dai cittadini come spazi a loro disposizione. Servizio straordinario di monitoraggio della qualità dell'area in ambito portuale per la prossima estate è quanto stabilito da un fitto dialogo tra Capitaneria di Porto, Comune di Citevecchia, Autorità di Sistema Portuale ed Arpa Lazio. Sarà proprio quest'ultima l'Agenzia regionale per l'ambiente ad effettuare il monitoraggio nella prossima estate presso l'area portuale di Citevecchia. A darne notizie il vice sindaco con delega all'ambiente Emanuele Magliani. Il servizio sarà reso nel solco tracciato lo scorso anno con il Civitavecchia Blu Agreement 2.0, spiega Magliani, su impulso del comandante del porto Francisco Thomas che ha caldeggiato l'implementazione dei monitoraggi in porto nella stagione estiva. Entro il mese di giugno definiremo pertanto gli aspetti tecnici necessari ad avviare durante il periodo estivo una campagna analoga a quella eseguita nel 2020. Il gruppo del Movimento 5 Stelle presenterà una mozione per la difesa e il sogno della comunità LGBTI. Abbiamo provveduto a protocollare l'abozione che impegni il sindaco affermano dal Movimento 5 Stelle, la giunta e il Consiglio Comunale, a prendere una posizione chiara contro la violenza di genere sui diritti. Nello specifico chiediamo di sostenere con un atto ufficiale il percorso del decreto legge ZAN contro l'homo bi-transfobia e la misoginia da troppo tempo fermo al Senato e solo da poco calendarizzato. Con la presentazione della suddetta mozione chiediamo inoltre che l'amministrazione ogni 17 maggio per la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia si faccia portavoce di eventi e campagne di sensibilizzazione. Voltiamo ancora una volta a pagina sulla vicenda delle elezioni indette per ottobre 2022 dall'Università Agraria interviene anche il prefetto di Roma. In una lettera firmata da Matteo Piantedosi e inviata al Comune Civitavecchia, all'ente di Viale Baccelli alla Regione Lazio, si invita l'ente di Viale Baccelli ad accelerare i tempi. Il nostro servizio, vediamo. Sulla vicenda delle elezioni indette per ottobre 2022 dall'Università Agraria interviene il prefetto di Roma. In una lettera firmata da Matteo Piantedosi e inviata al Comune di Civitavecchia, all'ente di Viale Baccelli alla Regione Lazio, si legge che in riferimento all'intervenuta scadenza del mandato del CDA dell'Università Agraria e dalla segnalazione pervenute circa significativi ritardi nell'indizione delle elezioni per il rinnovo di tale organo, pur nella consapevolezza del mutato setto ordinamentale introdotto con la riforma del titolo quinto della Costituzione e del venir meno della competenza del prefetto a disporre in via sostitutiva l'indizione dei comitati per le elezioni degli organi amministrativi, occorre richiamare l'attenzione sull'opportunità a disporre nei tempi più brevi possibili le procedure per le elezioni per garantire piena tutela dei diritti delle collettività facenti capo all'Università Agraria, nonché le primarie esigenze di trasparenza e buon andamento amministrativo in relazione alla gestione di beni che appartengono ad una pluralità di consociati. Un messaggio chiaro, quello del prefetto di Roma, che chiede l'indizione delle elezioni in tempi rapidi, così come preteso ormai da tempo, da una parte del mondo politico e dai cinque consiglieri, Pepe, Tiranti, Godani, Borgi e Pasterini, usciti a fine 2020 dal CDA dell'ente di Viale Baccelli. Un CDA che da allora conta solamente cinque consiglieri, oltre al presidente Daniele De Paulis, fatto che ha portato alcuni soci ad impugnare tutte le delibere che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria in formato così ridotto. Siamo soddisfatti dell'intervento del prefetto, spiega il consigliere comunale della Lega Pasquale Marino, e ci aspettiamo che questa volta l'Agraria ascolti quello che gli viene detto. Abbiamo anche chiesto al Tribunale di dare mandato al sindaco tedesco di indire le elezioni per conto dell'Agraria. È stato prorogato al 5 giugno il termine del concorso per creare un logo per l'Hospis. L'iniziativa vuole valorizzare il valore della vita in tutte le sue fasi e l'amore che tutti gli operatori del Carlo Kenis mettono nel loro lavoro quotidiano. La vicinanza al malato e la sua famiglia, spiegano dall'Asle Roma 4, l'avvicinarsi alla fine del viaggio senza dolore è fondamentale, come lo è la condivisione di un momento di difficoltà per tutti coloro che si trovano ad affrontarlo. Invitiamo tutti i cittadini, in particolar modo i ragazzi che hanno dimostrato in passato una grande sensibilità artistica e spessore umano a partecipare a questa iniziativa per dare una veste nuova al logo del nostro Hospis. Veniamo ancora a un altro argomento. Il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo. Esprime un concetto estetico e morale che riguarda la qualità sociale delle città. Questo è il senso dei nuovi sopralluoghi tenuti da giovani democratici in concerto con l'associazione Civitavecchia CE che mostrano una situazione critica all'esterno dei locali della stazione che necessitano di un rapido intervento. Il parapetto logoro che dà su viale della vittoria, dichiarano i Democrat, l'incuria del sottopassaggio, l'assenza di panchine rastrelliere, sono aspetti che sono semplici da implementare ma che garantirebbero un maggiore comfort per cittadini e turisti. La cura della città è il modo migliore per la comunità locale di apprezzare il territorio e raggiungere la piena fruibilità delle aree pubbliche. Veniamo ora alla pagina sportiva che apriamo con il calcio. Vittoria in rimonta per il Civitavecchia e nei razzurri hanno espugnato per 3 a 2 il campo dell'Ottavia nella settima giornata del campionato di eccellenza. La squadra allenata da Roberto Macaluso nel primo tempo è andata in vantaggio grazie ad un autogol ma ha poi subito l'uno dei due padroni di casa in rete con l'ex toscano che ha realizzato una doppietta. Civitavecchia che però nella ripresa ha effettuato la controrimonta grazie ancora ad un autogol e poi a 10 minuti dal termine alla rete di Funari. Passiamo alla pallanuoto. La grande reazione offerta dall'Enel-NC Civitavecchia in casa del Tuscolano fa ben sperare per il proseguimento della stagione nel campionato di Serie A2 ma per i Rosso Celesti che occupano al momento la penultima posizione non è ancora tempo di esultare. Non è fatta, ora serve mantenere quinto posto e prepararsi al meglio per i play-out e il servizio. L'Enel-NC ha superato il primo livello riuscendo a sconfiggere il mostro finale che era uno scorpione ma ora tante altre avventure la tendono sulla strada della salvezza. Si potrebbe descrivere così il successo dei Rosso Celesti nei confronti degli scorpioni del Tuscolano se fossimo nel mondo dei videogiochi. Grande reazione del set di Marco Pagliarini dopo le numerose delusioni. Romite e compagni sono partiti a razzo infligendo subito un parziale netto ai romani. Dimostrazione che la squadra ha approcciato il match del Foro Italico con lo spirito giusto e con la voglia di sovvertire almeno due dell'andata. Prova evidente del passo fatto in avanti anche sotto il profilo mentale che si era visto solo a Sprazi nelle gare con Visnova e Arvalia. La maggiore determinazione vista in acqua, soprattutto da parte di qualche senatore che nelle prime otto gare non aveva di certo brillato, è stata propedeutica per migliorare anche le statistiche, soprattutto quelle relative alle superiorità numeriche. Ma chi pensa che la salvezza possa essere già in tasca si sbaglia di grosso. Rimanendo in tema statistico, la situazione dell'uomo in meno deve essere ancora migliorata. Il Civitavecchia ha subito ben 100 inferiorità numeriche, almeno il 25% in più rispetto alle avversarie del Girone Centro e di conseguenza vengono incassati più gol rispetto alle altre compagini. Il 44% delle reti prese dai Rosso Celesti arrivano con l'uomo in meno, un'incidenza troppo alta che in tutta l'A2 hanno solo la De Hacker Bologna di Perez che però ha vinto tutte le partite e l'Acqua Chiara che ha la metà delle inferiorità numeriche rispetto a quelle dell'NLNC. E proprio i napoletani potrebbero essere una delle avversarie dei Civitavecchiesi nella semifinale play-out. Al momento è impossibile individuare il nome della sfidante tra la stessa Acqua Chiara, la Muri Antiche e la Canottieri Napoli, dato che ancora ci sono diverse partite da recuperare nel Girone Sud. Anche la questione del quinto posto nel Girone Centro, ottenuto grazie al successo col Tuscolano e dal superamento in classifica per via della differenza reti negli scontri indiretti, non è ancora certa. Rosso Celesti e Romani sono appaiati a quota 6, ma il 7 di Neroni deve giocare ancora due partite, sempre fuori casa contro Anzio e Ancona. Due impegni davvero ostici, ma va detto che gli Scorpioni hanno ancora il destino nelle proprie mani. Una sola invece è la gara che manca alla squadra di Pagliarini, che dovrà vedersela sempre con l'Anzio, ma nell'ultima giornata. Sicuramente un bel balzo in avanti è stato fatto grazie alla vittoria di sabato scorso, ma tornando ai videogiochi non bisogna mollare il joypad, perché il rischio del game over è dietro l'angolo. E passiamo ora al windsurf. La Lega Navale colleziona risultati importanti nella seconda tappa di Coppa Italia giovanile che si è svolta nelle acque di Ravenna. I civitavecchiesi hanno dominato nell'U17 femminile, conquistando il primo posto con Giulia Vitali e il secondo con Gaia Barbera. Un altro podio è arrivato da Alice Evangelisti, terza nell'U15 donne, quarta posizione per Nico Pettinari nell'U17, quinta per Davide Mecucci nel CH4, sesta per Davide Terzaroli tra gli U15. E veniamo ora ad una segnalazione che ci arriva dal centro cittadino. Una nostra telespettatrice si è contattato per segnalare la situazione di degrado che si registra via Montegrappa sui marciapiedi. Sarebbe presente molta sporcizia, in particolar modo bustine contenenti escrementi di cani. Secondo la segnalazione da oltre un mese non transiterebbe nelle zone il personale del CACP per provvedere alle pulizie. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E con questa segnalazione termina qui questa sera, questa edizione nel nostro telegiornale. Ma prima di salutarvi ricordiamo, come sempre, seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'attenzione e naturalmente buon proseguimento di serata. A risentirci. Grazie. Grazie.